Francesco Modesto, ci avete creduto fino alla fine, purtroppo non è arrivato il gol del pareggio, siete riusciti a riaprirla, forse un po' tardi? No, sicuramente, però penso che la squadra abbia fatto una partita veramente di grande spessore, perché avevamo anche delle difficoltà sicuramente, però i ragazzi si sono comportati benissimo, nel primo tempo potevamo andare in vantaggio più di una volta, non ci siamo riusciti, poi abbiamo preso un gol dove c'è un fallo netto su una palla coperta in area di rigore nostra e lì magari l'arbitro non ha visto e siamo andati sotto di 1-0. Poi nel secondo tempo, secondo me, siamo stati bravi a fare la gara per pareggiarla, poi abbiamo preso il gol su un calcio piazzato dove c'è stato un blocco sul secondo palo, sempre su palestra da rivedere, l'unica cosa che mi dispiace è magari tante volte l'atteggiamento, non vorrei parlare degli arbitri, però l'atteggiamento di rispetto verso i ragazzi perché sono ragazzi del 2005, non posso sentire che aggrediscono magari i palestri in mezzo al campo in un 2005, un ragazzo con un occhio di riguardo, perché comunque oggi giocavamo contro una squadra di un blasone importante con giocatori di un livello alto per questa categoria, loro si permettono di fare qualsiasi cosa, di dire qualsiasi cosa, però se un ragazzo del 2005 non vuole offendere, dice solo la verità, l'arbitro comunque deve comprendere e non si deve arrabbiare con lo stesso, quindi l'unico rammarico è quello, poi sulla prestazione dei ragazzi fino all'ultimo ci abbiamo creduto, peccato che il risultato è negativo, però per la prestazione è molto positiva. Non si cercano alibi, certo è che anche a livello di infortunati non è che sono state attraversando un bellissimo momento, diciamo che a Modesto oggi mancavano 8, 9, 10 giocatori. No, il rammarico è quello, però le note positive di oggi mi rendono ancora più orgoglioso di allenare questa squadra e questi ragazzi, perché vanno oltre a tutto, loro oggi hanno giocato veramente bene, una grande prestazione su un campo non facile, contro degli avversari non facili, però abbiamo fatto la partita noi, loro hanno solo approfittato degli errori e delle sviste. Meno male che c'è subito un'altra partita, così si gira pagina e si pensa al prossimo impegno. È una partita molto, molto bella da giocare perché è il derby, martedì saremo in casa loro, già da domani comunque i ragazzi saremo al campo per chi deve recuperare lo farà sicuramente in fretta perché ci aspetta una partita bella tosta.